Benvenuti in questo nuovo brevissimo video riguardante un aggiornamento di GameStop Il mitico e ironico Gabe Plotkin avrebbe guadagnato il 20% a febbraio SourceAe significa che secondo delle fonti non venne specificate Melvin Capital e il suo hedge fund 20% andando short presumibilmente GameStop GameStop a febbraio ha fatto circa il meno 46% e lui ha guadagnato il 20% Quindi abbastanza esposto ma non esposto al 100% se così si può dire Il suo fondo però aveva perso il 53% a gennaio quindi un più 20% Significa che da 100% andava a 47% poi aggiungi il 20% e circa a 60% su 100% quindi è sotto ancora del 40% inizio anno Poi ci dice che c'è stato sempre questo hearing di fronte al congresso a cui ha presenziato anche Kate Gill Che è Deepfin Value che sarebbe quello che postava su WallStreetBets The Roaring Kitties Lo youtuber milionario E poi qui ci dice che gli avevano prestato i soldi Sita dell'STV Cohen per 3 miliardi Ci ho fatto un video andatevelo a rivedere se vi va E niente dice che sostanzialmente a causa di WallStreetBets e di quello che sta accadendo con gli short squeeze Loro come short devono rivedere un po' le varie strategie Grazie per questo brevissimo video, ci vediamo